Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Tanto per cominciare grazie di essere qua sabato mattina alle 10 a sentire parlare di Brand Journalism perché è comunque un atto di fede e volevo ringraziarvi per appunto sentire questo mio intervento. Io sono Eugenio Damasio e lavoro da due anni nel team di Agifactory che vi racconterò poi più nel dettaglio durante la presentazione. L'obiettivo di oggi è provare a capire come funziona Brand Newsroom nella pratica a partire però da un'analisi di contesto e dalle regole generali del Brand Journalism e dalla metodologia che utilizziamo all'interno di Agifactory per creare progetti legati al giornalismo di marca. Alla fine vi racconterò un piccolo case che è partito lo scorso anno che speriamo di portare avanti anche questo. Dunque, questo preso dal sales deck di Agifactory è interessante in generale come cambia il mercato dei brand content, anzi come i brand content sono e stanno diventando sempre più parte integrante del palinsesto diciamo editoriale di un'azienda, di quello che un'azienda deve decidere di fare per comunicare se stessa. Trovo interessante il dato legato agli investimenti in Italia in proiezione sul 2019 come trovo interessante in realtà ancora di più il fatto che in un trend di anni la percentuale devoluta al brand content aumenta sempre più. Perché? La domanda è chiara. La risposta che io mi sono sempre dato, che tendiamo a darci all'interno di Agifactory è legata a due grossi aspetti. Da una parte l'età dell'attenzione. L'età dell'attenzione cosa significa? Significa che io ho 25 anni e non mi ricordo un giorno della mia vita in cui non sono stato attaccato a uno schermo di qualche genere. Una volta era la televisione, poi sono diventati i desktop, poi è diventato lo smartphone. Più si sta attaccato a uno schermo, più lo schermo diventa parte integrante diciamo della tua vita. E' interessante in questi termini qui, ad esempio, il fatto che tra il 2000 e il 2018 se l'attenzione media, anzi l'arco di attenzione che una persona aveva era intorno ai 12 secondi su una singola situazione, siamo andati sotto gli 8 secondi. E ogni anno questa percentuale si abbassa drasticamente tra l'altro. Qua uno schema di base, diciamo, di come funziona l'attenzione ottimale. Questo è lo schema legato all'arousal. L'arousal è la condizione temporanea del sistema nervoso in risposta a uno stimolo per andare a generare una performance ottimale della persona che è stata stimolata. Ecco, la presenza di schermi, la presenza di flusso continuo di notizie, la capacità sempre più, la incapacità nostra anche, di riuscire a capire dov'è che inizia in realtà quello che è l'infosfera intorno a noi, dov'è che finisce, ha generato in realtà una curva nella nostra attenzione effettiva dove non c'è mai un momento di arousal effettivo. Perché tramite soprattutto notizie legate a politica, breaking news e violenza, che sono quelle, tra l'altro, premiate dall'algoritmo di Facebook negli ultimi cinque anni, soprattutto, vedesi tutto quello che è stato anche le polemiche a quello collegato, non si riesce mai ad avere un momento di non stress sostanzialmente nei confronti degli stimoli derivati dalla rete. Seconda cosa, l'età della trasparenza, cioè se da una parte sicuramente c'è poco livello di attenzione ed è difficile intercettare l'attenzione degli utenti e l'attenzione delle persone con cui vogliamo parlare, dall'altra parte viviamo in un contesto in cui è fondamentale la trasparenza, ne parlava prima il dottor Lupi. Io riporto questo dato qui che è interessante, c'è un report di BB&G e Globescan che vi consiglio di andare a vedere, loro fanno un bel lavoro soprattutto perché il cluster di partenza, cioè gli intervistati vengono da tre continenti differenti, e in tre continenti differenti l'86% dice che comunque la trasparenza rappresenta uno dei asset fondamentali di un'azienda, uno dei motivi fondamentali per cui io vado a scegliere su un mercato altamente competitivo un prodotto rispetto ad un altro. In realtà questa età della trasparenza nasce in un contesto globale dove i marchi, diciamo che quantomeno all'inizio degli anni 2000, non avessero particolari trasparenze rispetto al mercato, non era necessario parlare in modo orizzontale con i propri stakeholder fino a vent'anni fa e spesso ci sono state diverse crisi reputazionali semplicemente legate a situazioni che non erano note. Queste tre penso che le conosciate tutte e tre. La prima è la più celebre di tutti, la Nike che faceva fare i palloni ai bambini. La seconda è la Foxconn, la Foxconn a parte le decine di morti è interessante l'aneddoto che racconta circa un mese prima del lancio del nuovo iPhone Steve Jobs torna a casa e scopre che il vetro del proprio iPhone era rigato, l'aveva messo nella stessa tasca delle chiavi. Il giorno dopo chiama in Cina la Foxconn e hanno ricambiato tutti i vetri degli iPhone a due settimane circa dall'uscita e dal lancio sul mercato in un contesto di fabbrica che è un po' la fabbrica mondo tra l'altro. Poi la Foxconn ha avuto una serie di altri passaggi ma sicuramente questa è una cosa che ha colpito anche fortemente un brand fortissimo come il brand Apple. E poi il più celebre di tutti che è il McDonald's. Vent'anni fa il McDonald's era l'impero del male, cioè vent'anni fa quando si parlava di McDonald's era equivalente il posto malvagio. Per quale motivo? Varie situazioni, pensiamo a tutto il giornalismo che è stato fatto su McDonald's, questo libro che ha girato molto in Italia, McNudo, è un libro di Cino che tra il 2001 2003 si trova praticamente in ogni libreria, il McDonald's aveva una grossa crisi legata al fatto di essere un brand di massa sostanzialmente che non riusciva a rinnovarsi e che nella sua omologazione dei luoghi che andava a generare in giro per il mondo non riusciva più a dare qualcosa in più ai propri clienti. Ed è proprio da McDonald's che nasce il brand journalism. Sembra interessante, in realtà è una cosa abbastanza nota anche questa, però è molto interessante sapere che proprio nel momento di massimo livello, anzi di minimo livello di reputazione del brand, cioè tra il 2002 e il 2006, che sono stati gli anni più complicati in assoluto per McDonald's, gli unici anni in cui per esempio hanno chiuso punti vendita, cosa che non era mai successa per 50 anni. A capo del marketing stava il signor Larry Light, il signor Larry Light è nella top ten dei marketer della decade, è stato tra i primi in assoluto, alcuni pensano che sia per certi versi solo sotto a Steve Jobs, per quale motivo? Lui era un teorico, è un teorico, se vi capita di leggere quello che ha scritto, fatelo assolutamente, perché qualsiasi cosa che abbia scritto Larry Light negli ultimi anni è sicuramente interessante, perché ha una visione da insider da una parte, ma dall'altra è un grande teorico, cioè una persona con un grande spessore. Che cosa dice lui? Dice il brand è un'idea complessa e multidimensionale, capace di includere tratti differenti, oltre che benefici e motivi che distinguono il brand character. Cioè rispetto al proprio marchio, che era un marchio per certi versi capacissimo di diffondersi a livello mondiale, ma non capace ad essere monolitico, lui ha immaginato che forse bisognasse usare un metodo differente. Il metodo che lui propone all'interno dell'azienda è quello del brand journalism, cioè non tanto il giornalismo di per sé, ma utilizzare tecniche, la cassetta degli attrezzi giornalistica, per andare a generare storie di valore, da una parte, ma dall'altra andare a generare una serie di messaggi sempre più specifici, e qua riprendiamo la frase che anche prima appunto il dottor Lupi ha ricordato, il brand journalism offre il giusto messaggio alla giusta persona nel giusto contesto, bla 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 bla, nel giusto formato per il giusto device, cosa vuol dire? Il brand journalism dà la possibilità di generare un messaggio che sia fortemente customizzato per avere una risposta da parte del proprio pubblico di riferimento. Quindi innanzitutto questa metodologia è coinvolgente. Seconda cosa, utilizzando metodi giornalistici c'è la possibilità di avere un taglio editoriale, un taglio editoriale è per certi versi più interessante di un tone of voice, perché un taglio editoriale è la stessa cosa che succede all'interno di un giornale, all'interno di un giornale possono esserci editorialisti con toni di voce completamente diversi, possono esserci contenuti tra loro completamente diversi, ma sicuramente su ogni giornale da pagina 1 a pagina 50 ci sarà un taglio, cioè ci sarà una modalità decisa da una redazione che implica che determinati contenuti non usciranno in un certo modo e che i contenuti che sono prodotti rientrano dentro una riconoscibilità del giornale. Se questa cosa viene applicata all'azienda in realtà è estremamente interessante, perché vuol dire che a partire da una serie di linee guida tu puoi immaginare dalla progettazione dei menu sui vassoi, cosa che per esempio McDonald's negli ultimi dieci anni fa a un livello sempre più interessante, fa storytelling pazzesco sulle tovagliette, fateci caso perché sono una più bella dell'altra sempre, come all'interno della scelta delle location, come all'interno della scelta dell'interior design, come all'interno della modulazione del brand rispetto a un contesto europeo o a un contesto asiatico o a un contesto internazionale. McDonald's, che adesso è l'esempio caso, ma in generale la nostra azienda nel momento in cui ha un taglio editoriale riesce a non snaturare se stesso sostanzialmente, ma a rimanere coerente all'interno di la creazione di un universo di contenuti, di un universo che non è solo narrativo ma è spesso legato a contenuti fattuali. Ricordiamoci il discorso sulla trasparenza di cui prima, il brand journalism è uno strumento che sicuramente aiuta dal punto di vista di tutti i processi di responsabilità sociale di impresa e di apertura delle situazioni aziendali. Ultimo passaggio, il brand journalism dà la possibilità di creare una comunità inclusiva. Sempre Larry Light, quando parla del contesto in cui viviamo, dice viviamo in un periodo di inclusività individuale, cioè di persone singole che si sentono delle persone con le proprie necessità, le proprie volontà di acquisto e soprattutto una propria specificità e autonomia, ma che contemporaneamente hanno necessità, voglia di avere a che fare, barra di essere rappresentati e di riconoscersi all'interno di più community contemporaneamente. Come si fanno a intercettare queste due necessità, diciamo, del cliente? Il brand journalism offre una buona possibilità perché tramite l'utilizzo della notizia, tramite l'utilizzo di un taglio appunto, dà la possibilità sia di colpire l'interesse individuale che dall'altra di andare a colpire le conversazioni delle community. Quindi nel momento in cui tu vai poi a creare il tuo piano editoriale e sai quali sono i tuoi stakeholder, sono sempre questi un po' i due poli con cui devi sempre avere a che fare e devi sempre prendere in considerazione all'interno di ogni creazione di piano editoriale, all'interno di ogni creazione di contenuto. Chi ma io di Agi? Questo è il momento Marchetta, scusatemi, però sono qua in veste di Agi Factory. In realtà è interessante l'arco narrativo, diciamo, anche della storia di Agi, perché Agi è per certi versi uno dei primissimi esempi di brand journalism europei. Per quale motivo? Siamo davanti a una grande azienda che è Eni, siamo davanti a un'azienda che si rende conto di avere una grossissima capillarità, per esempio in Medio Oriente o in Africa, in tutta una zona che era difficilmente battuta dalle agenzie di stampa tradizionali, grazie a un'intuizione di Mattei nasce Agi. Agi nasce però come effettiva e continua a essere effettiva macchina esclusivamente giornalistica, nel senso Agi ha le proprie regole, è totalmente trasparente le modalità con cui anche si parla di Eni, per esempio, se andate ad aprire il portale di Agi è tutto esplicitato a riguardo, perché è corretto che sia così, l'obiettivo di Agi è un obiettivo prettamente giornalistico. La modalità, diciamo, di brand journalism si rivede nel tempo in Eni, ad esempio con una pubblicazione che aveva avanti per tantissimi anni che è Il Gatto Selvatico, Il Gatto Selvatico era una pubblicazione che metteva dentro tantissimi dei grandi intellettuali del paese tra gli anni 50 e gli anni 70, o Calvino per dirne uno. Questa era un'idea, e in generale l'idea di brand content, tra virgolette, antesignana, in Eni è stata sempre un'idea molto forte. Da queste, diciamo da questo heritage e da questa modalità nasce Agi Factory, ormai due anni fa, Agi Factory non è un'agenzia di comunicazione, ma è il primo brand journalism lab italiano. Agi Factory nasce con l'obiettivo di creare questo, cioè con l'obiettivo di portare all'interno delle logiche di gestione del lavoro, quello della creazione di brand newsroom per tutte le aziende. Che cosa significa? Nel momento in cui abbiamo un metodo, abbiamo una cassetta degli attrezzi, se non abbiamo una modalità di gestione del lavoro e di messa a terra di questo metodo, è inutile sostanzialmente il metodo in sé. La brand newsroom è sostanzialmente la nostra redazione di marchio, ok? Qua abbiamo recuperato da una delle varie proposte fatte in questi anni quella che è un po' l'idea di che cosa dovrebbe essere una brand newsroom, cioè un'orchestra sostanzialmente in cui se davanti a noi ci sono i nostri spettatori, che sono quelli che noi dobbiamo riuscire a intercettare nella loro individualità e nella loro community. C'è anche tutta un'organizzazione intorno all'orchestra, ovviamente, e una serie di gruppi all'interno dell'orchestra che o lavorano tutti insieme oppure non si riesce a generare il contenuto. Quali sono queste figure? Da una parte abbiamo il client partner. Il client partner è molto rilevante, il client partner è sostanzialmente l'account, ma è un account che deve avere anche un taglio, una idea di quella che è la possibilità di proposta editoriale che tu puoi andare a fare al marchio, ovviamente. Quindi è quello che sì si occupa del rapporto con il marchio, ma contemporaneamente cerca di trovare gli ispiragli nella notiziabilità che c'è all'interno del marchio con cui si sta lavorando. Chi è che poi effettivamente recupera questa notiziabilità è il brand reporter, ma lo vedremo più nel dettaglio. Come vedremo anche più nel dettaglio l'editor in chief, che è il centro, il polo, il maestro d'orchestra, diciamo, che sta sia al centro della newsroom tutta che all'interno e che come ponte tra la parte creativa e la parte, diciamo, di consulting classica. Il team creativo è fondamentale all'interno di una produzione del genere e all'interno di progetti del genere. Il caporedattore ancora di più. Il brand reporter, e qua abbiamo fatto diverse esperienze a riguardo, il brand reporter è un'idea abbastanza divertente in realtà perché cambia completamente la modalità con cui tu entri in un'azienda. Tu arrivi in un'azienda in quanto brand reporter con un obiettivo che è rispetto al vostro heritage, rispetto a quello che siete adesso, rispetto a quello che volete produrre, quali sono i margini di notiziabilità che ci sono all'interno dei vostri processi? Quali sono le situazioni di valore che possono essere rimodulate all'interno di un piano editoriale e all'interno di un taglio editoriale preciso che si va a definire col marchio stesso? Il brand reporter sostanzialmente fa la stessa cosa che fa un cronista, però lo fa all'interno di un'azienda. Lo fa andando fisicamente all'interno di un'azienda, lo fa conoscendo fisicamente le persone, andando ad avere un rapporto sempre più grosso nell'arco del progetto con tutti gli strati dell'azienda utili a trovare poi del risultato sostanzialmente, a trovare poi quel valore, quell'inespresso, quelle 5V anche tra l'altro di cui si parlava prima, che stanno all'interno delle aziende di riferimento, non solo delle aziende ovviamente, poi si può parlare di un evento, si può parlare di istituzioni, adesso lo sto facendo molto B2B ma è applicabile ovviamente a qualsiasi organizzazione questa tipologia di modalità di lavoro. E poi c'è l'editor in chief, l'editor in chief secondo me, anzi il caporedattore, rappresenta una delle cose, una dei job title più interessanti dei prossimi 10-15 anni, per quale motivo? Come abbiamo visto la richiesta di brand content è alta, come abbiamo visto la produzione di brand content è sempre più alta, come abbiamo visto il flusso di informazioni che abbiamo da parte degli individui, per esempio in azienda stessa, da parte di tutte le sue organizzazioni e soprattutto la loro gestione rispetto all'esterno diventa una situazione sempre più cruciale, cioè diventa sempre più cruciale che ci sia una persona legata all'azienda che sostanzialmente sia in grado di gestire il flusso, di dargli un taglio, di dargli un taglio corretto, di capire come strutturare in real time anche il lavoro, perché con l'avvento dei social è ovvio che anche la figura del caporedattore diventa sempre più interessante perché potenzialmente un'azienda ogni giorno fa il giornale, non lo fa cartaceo, però lo fa magari sui touch point digitali, però potenzialmente ogni giorno un'azienda fa il giornale, si vede la mattina a fare riunione di redazione, che cosa c'è da fare, che cosa facciamo di instant marketing oggi, che cosa c'è da fare per la prossima settimana, qual è il magazine aziendale, quali sono le varie divisioni. I caporedattori stanno diventando, poi li troverete anche nelle slide, ho lasciato un solo link all'interno di questa presentazione che è questo interessantissimo articolo di Axios, andate a vederlo, che cosa dice Axios, Axios va a vedere grandissime corporation anche dell'entertainment americano e spiega come tantissime di queste aziende si stanno spostando anche sulla produzione di contenuti editoriali veri e propri, quindi a quel punto neanche brand journalist, proprio giornalismo effettivo powered by, diciamo, che implica la necessità di un caporedattore. Microsoft ha un caporedattore, Netflix ha un caporedattore, Google ha un caporedattore, cioè sempre di più questa è un trend che arriverà. In Italia siamo un pochino indietro da questo punto di vista, ovviamente è difficile immaginarsi una figura del genere oggi negli organigrammi aziendali, strutture standard, ma sicuramente è una grossa possibilità anche per esempio per i libri professionisti, sicuramente, perché è un aspetto anche commerciale facilmente anche comprensibile da un'azienda che deve approcciarsi per esempio al mondo del digitale e che a quel punto grazie a un'analogia col giornalismo capisce veramente che cosa stai andando a fare con la sua azienda, capisce veramente che tipologia di consulenza si sta andando a fare. Come Agi abbiamo, sempre più raffinando nel tempo, abbiamo immaginato un metodo di lavoro in realtà che si chiama drilling approach e di nuovo gioca con quello che è l'heritage di Eni, quindi con il fatto che quando è nata la struttura la domanda vera è come fanno a stare insieme queste due cose, come fa a stare insieme l'industria petrolifera sostanzialmente e la creazione di prodotti. Qual è l'unica situazione che poteva essere in comune? È la modalità con cui Eni va a fare trivellazioni di precisione. È molto interessante in realtà, un termine un po' tecnico, però succede che praticamente Eni è sempre stata molto considerata bene a livello internazionale tra le aziende di petrolifera perché sono relativamente poco invasivi nelle pratiche, nel senso che gran parte del lavoro legata alla produzione di valore è legato alla ricerca che sta alla base, al sondare, al trovare il posto giusto in cui andare a toccare. Come si applica questa cosa al brand journalism? Noi l'abbiamo mantenuto come drilling approach, siamo davanti a tre fasi, la prima fase è una fase di sondaggio, la seconda è l'approfondimento, la terza è quella di divulgazione. Nel sondaggio cioè la fase iniziale diciamo della propria inchiesta da brand reporter, da caporedattore all'interno dell'azienda è i dati, cioè tiriamo fuori i dati che ci sono all'interno di questa azienda perché i numeri sono fatti e i numeri sono notizie e non hanno un colore negativo o positivo i numeri ovviamente. Bisogna capire in che modo farli diventare elemento di valore per ogni azienda e ogni azienda ha dei numeri interessanti, ogni azienda, anche un fruttivendolo se si cercano bene, cioè ogni settimana selezioniamo 50.000 pere diverse, è un numero interessante dal punto di vista dell'azienda, poi il fruttivendolo lo fa comunque, però dipende sempre come lo racconti. La seconda parte è una parte di analisi che spesso ovviamente si lega a lavori di reportistica e a lavori di customer giorni, a lavori anche legati alle varie sezioni di marketing barra di altre agenzie marketing che lavorano al progetto, quindi noi in questa fase qui si recuperano quei dati lì. C'è una parte legata alla reputation analysis sempre e al posizionamento, cioè ad ora dov'è la nostra azienda, se gli do un taglio editoriale di un certo genere dove potremmo andare, ok? E poi di personalità, cioè l'attestata, l'attestata dell'azienda, a chi parla, in che modo dovrebbe parlare. La seconda parte è quella legata all'approfondimento e alla costruzione del racconto, la modalità è simile a quella dell'inchiesta, cioè se da una parte io posso fare una serie di mini redazionali che mi avvicinano e mi creano il contesto, poi l'inchiesta vuol dire che io arrivo a un punto in cui io ho scritto la storia, tra virgolette, giornalistica del mio marchio di riferimento, ce l'ho tutta e a quel punto poi potrò dipanarla sui vari canali. La verifica, che è molto importante, per quello che dicevamo prima di trasparenza e attenzione, se noi riusciamo a recuperare, grazie a questa cosa qui, dell'attenzione maggiore dai nostri utenti, poi i nostri utenti si immaginano, siccome io gli sto dando comunque una tipologia di informazione diversa da quella del marketing tradizionale, che quello che io gli stia dicendo non sia una fregnaccia. Il fact checking spesso viene fatto anche dal cliente finale, come sappiamo bene. Avere i social è un ulteriore flag da avere sempre in mente, bisogna stare attenti che quello che esca sia verificabile, abbia fonti, abbia la possibilità di avere una risposta all'interno di un flame, per esempio. Se già semplicemente si ha questa tipologia di passaggio, come nel giornalismo in realtà ha senso. Poi si può sbagliare ovviamente e in quel caso è giusto rettificare un proprio errore, però la parte di verifica e di fact checking, soprattutto in agi tra l'altro dove la verità conta, che è il claim dell'azienda, è una cosa che tendiamo a fare in modo particolarmente forte. E poi c'è la costruzione. Nella divulgazione del brand in prima pagina, cosa vuol dire? Rispetto all'infosfera che si è generata, ai touch point a disposizione, a quello che abbiamo deciso tra air, paid e organic media che abbiamo prodotto, si crea un piano di divulgazione, si crea un lavoro organico in realtà poi dove i comitati editoriali rappresentano un po' il fulcro, una volta alla settimana, una volta ogni due, in cui si va ad aumentare sul numero diciamo di informazioni che si ha e si va a migliorare la propria strategia. Come si va a migliorare la propria strategia? Anche nello stesso modo con cui lo fanno i giornali, ascoltando quelli che sono i risultati, capendo quali sono le tipologie di contenuti che io devo andare a produrre per generare determinate interazioni, capendo rispetto al mio palinsesto ogni volta, quali sono i dati effettivamente che hanno generato queste mie proposte. Più si va avanti ovviamente c'è un front-in-in continuo, più si riesce a creare anche un tono di voce particolare e un taglio editoriale sempre più forte al brand in questione. Vi parlo di un case, così capiamo anche nella pratica una cosa. Vi parlo di SIAE, è un case che quando andiamo a raccontare il lavoro, raccontiamo abbastanza spesso, è un lavoro dello scorso anno, è un lavoro che ha durato sette mesi, otto mesi e sostanzialmente si arriva in un'azienda che conosciamo tutti per certi versi, ma la conosciamo tutti per lo stesso motivo, cioè è una tassa, appunto. Non c'è molto da dire quando si parla di SIAE, o quantomeno non c'era molto da dire, adesso si è cercato di lavorare in un'altra direzione. Per quale motivo? L'obiettivo era passare, tanto per cominciare a dare valore a un claim che loro non avevano, che è dalla parte di chi crea. Nel momento in cui hanno fatto rebranding SIAE, e questo è successo circa tre anni fa, questo claim qui già posizionava in modo differente l'azienda. Secondo punto, l'obiettivo loro era andare a intercettare quello che era il discorso intorno al futuro della musica, quindi non solo ai nostri autori passati che io vado a tutelare, ma a tutti gli autori futuri che devono conoscere SIAE per capire che cosa vuol dire essere tutelati da SIAE. Abbiamo creato una brand newsroom effettiva, fatta da alcune persone del nostro team e altre persone del team di SIAE. Ovviamente una struttura come SIAE, come tantissime altre aziende analoghe, ha una struttura interna di comunicazione. Perché non lavorare anche orizzontalmente con queste strutture interne e far sì che tutte le persone coinvolte nel processo abbiano un ruolo all'interno di una situazione di redazione. Cosa abbiamo fatto? Grande presenza attiva dei brand reporter, oltre agli eventi grandi siamo stati tanto fisicamente dentro all'azienda, non so come dire, ed è stato interessante. E poi una serie di servizi, che sono quelli della communication strategy, c'è stato il posizionamento, abbiamo fatto grande produzione video, abbiamo fatto produzione di contenuti, una gestione sugli eventi, tutti pensati però con questo stesso taglio qui. Com'è andata? Così. Abbiamo fatto diverse dirette, una centinaia di video, tre interviste e clip agli artisti, 200 tweet dai social solo agi, che vuol dire che sono anche 200 lanci di agenzia, abbiamo proposto nove format diversi per coprire gli eventi e per andare a produrre gli eventi, circa 2000 foto, buoni risultati. Nel senso, risultati organici, in una situazione in cui immaginatevi che è molto complicato sbloccare il paid, all'interno di situazioni di evento, in cui era più facile andare a intercettare le community che ci interessavano sostanzialmente, andando a fare che cosa? Da una parte creazione dell'evento in un certo modo e anche quindi la presenza di SIAE all'evento in un certo modo, la presenza, per esempio, l'inserimento delle interviste, l'inserimento di una persona fisica umana che rappresenti SIAE quando si fa una domanda, sembrano cose semplici, tra virgolette, non lo è così tanto perché non è successo mai, cioè nel senso, non c'era un precedente, no? e soprattutto per una distribuzione generale. Al concertone, perché arrivano le 100.000 views dalla pagina solo Facebook di SIAE, che è una pagina che quando abbiamo iniziato a fare questo lavoro diciamo che non era particolarmente attiva in termini di engagement rate, perché tu arrivi a raccontare o a intervistare gli artisti e ti capita che Nitro, su cui hai preparato un'intervista di un certo genere, si mette a piangere raccontando la sua esperienza da cantante, ringraziandosi SIAE dicendo grazie mille per avermi fatto parlare di questa cosa oggi al primo maggio, la condivide sul suo profilo, genera traffico, ovviamente. Lo stesso Nitro, per dire, lo stesso artista diventa interessato a condividere un risultato, una cosa del genere. E poi creazione di grande materiale follow up, tra cui un format che adesso stanno continuando a fare, che si chiama La prima volta insieme. Questo nasce, e questo di nuovo è un aneddoto divertente che vi racconto velocemente, perché poi così manteniamo 5-10 minuti per le domande. ero in SIAE fisicamente, arriva una persona che porta un deposito e io dico cavolo bello questo deposito, non sapevo come si facessero i depositi. Il capo del marketing di SIAE mi risponde sì ma guarda noi sappiamo l'archivio, cioè l'archivio è un posto pazzesco, l'hai mai visto, vado a vedere l'archivio di SIAE. L'archivio di SIAE era un posto che non esisteva, quantomeno come verso l'esterno, è effettivamente un posto fisico dove ci sono tutti i depositi delle opere di intelletto degli autori italiani, da Giuseppe Verdi a oggi, indicativamente. Capite bene che quella è una notizia bomba, non so come dire. Se gestita bene all'interno di un piano editoriale, una cosa del genere può generare contenuto e valore per tanto tempo. Che cosa abbiamo fatto? Siamo andati, c'era Ermalmeta il giorno dopo al Foro Italico, non avevamo alcun rapporto in quel momento lì, però sapevamo che era al Foro, quindi era interessante per la tipologia di situazione. siamo andati a fare una stampa del suo primo deposito, gliela siamo andati a consegnare intervistandolo senza che lui lo sapesse. È stato un momento molto divertente in cui Ermalmeta si è messo a piangere come un bambino raccontando di quando era ancora un albanese a Bari. Da lì in avanti adesso l'ultimo che l'ha ricevuto è Vasco Rossi. Takeaways sono questi, ma sono disponibilissimo per domande. Grazie. Grazie mille, grazie mille Eugenio. Abbiamo in effetti 5-6 minuti per le domande, ottimo. La faccio da valletta. Iniziamo che non abbiamo le vallette, vi dovete accontentare di quello che passa alla camera. Intanto complimenti, molto molto interessante. Due domande. La prima è perché a capo di Brand Journalism c'è un capo redattore e non un direttore? Questo, lo dico forse tra noi giornalisti è chiaro, perché Massimo è il direttore, perché il capo redattore, se no a qualcun altro risponde. E in questo caso c'è un capo redattore che risponde al direttore dell'AGI o al direttore o a Bardazzi, in questo caso. E poi volevo sapere se quanti siete, se lo puoi dire, e come vi è relazionato con il resto della realtà giornalistica dell'AGI. Dunque, sulla prima domanda in realtà hai dato anche la risposta a te, dipende. Cioè, nel momento in cui parliamo poi di aziende, il direttore è da una parte il tuo direttore di riferimento o dalla parte aziendale il direttore, il siemo, diciamo, di riferimento dall'altra parte. Quindi la parte di direttore la mantiene comunque l'organigramma aziendale, non so come dire, no? E il capo redattore è quella figura subito sotto che ha anche un rapporto il più orizzontale possibile col direttore. Poi c'è la presidenza, che è un altro problema, tra l'altro, delle situazioni giornalistiche. Rispetto al team, il team è presente a Milano e a Roma. Nel senso che siamo a Milano, presso Viatturati, e a Roma è stata aperta e inaugurata da poco la chiesetta del gasometro. Quindi sotto il gasometro c'è una chiesetta con diverse postazioni, in realtà, dove lavora il team da giù. Io fisicamente sono a Torino, quindi in realtà ci sono tre nuclei differenti di lavoro intorno alla factory. che rapporto c'è con l'agenzia, quello che deve esserci per un Brand Journalism Lab. Nel momento in cui ci sono delle situazioni di sinergie che si possono fare tra le attività giornalistiche, viaggi e le nostre attività, si lavora insieme. Esempio SIAE, il primo momento di lavoro su SIAE è stato a Sanremo, dove da una parte noi facevamo lavoro di narrazione sul brand, dall'altra Riccardo Luna intervistava gli artisti. quindi dipende ovviamente da qual è il progetto, però la tipologia di situazione è che ovviamente noi siamo molto più spostati su tutta questa parte qua legata al marketing. Non sono un giornalista io, ok? Io non sono un giornalista, ho studiato la scuola Holden, giornalismo con Luna, però non sono un giornalista. Ma meno male anche per certi versi, perché sennò non potrei anche sviluppare determinate altre cose. Adesso sinceramente non è il patentino il problema numero uno. Grazie. Ecco, poco. Complimenti per la presentazione. Faccio a Holden subito, io sono un promoter di eventi musicali, quindi SIAE mi sta un po' sulle scatole. Lo capiamo. E sono sostenitore di Greenpeace, quindi anche non è che mi piace troppo. Ma al di là di questo, volevo chiederti, come vi rapportate a bad news relative ai vari marchi? O se è un case history da poter raccontare? In realtà, dunque, non posso raccontarti niente di specifico riguardo a questa cosa, però nella gestione generale dei marchi, parte del lavoro che fa la factory è legata tanto al crisis management. Quindi, faccio un esempio, è interessante andarvi a vedere quello che ha fatto Eni, che poi era gestita dalla stessa persona che gestisce la factory, quindi Daniele Chieffi, che era qua al web marketing due giorni fa, rispetto a report. Quindi, la risposta di Eni a report è una buona risposta del modo in cui, dal punto di vista aziendale, si va a rispondere a una crisi. Quella è la modalità con cui si cerca di lavorare, cioè nel momento in cui c'è una bad news, si capisce dove stanno i limiti, diciamo, di quello che è effettivamente complicato e quello che è stato spiegato male e rispetto a quello si dà una risposta. L'obiettivo sempre che si deve dare al marchio è, dai una risposta nel momento in cui vieni attaccato, non so come dire, e dai una risposta che sia coerente con quello che stai raccontando. Poi, per certi casi non verrai premiato, ovviamente, però il fatto che tu non venga premiato è perché nei fatti hai fatto qualcosa di complesso, capito? Cioè, nei fatti c'è stato un problema e nel momento in cui nei fatti c'è un problema ci si può girare intorno, per certi versi, ma non è l'obiettivo di un approccio del genere, anzi è, c'è stato un errore, chi ha sbagliato pagherà, da domani si va avanti in un altro modo. Perché quando sei davanti a un'azienda, la grossa cosa interessante delle aziende è che sì, ci sono sempre delle responsabilità collettive, tra virgolette, ma spesso ci sono anche delle responsabilità individuali e l'organizzazione in sé ha la possibilità di rimettersi in moto rispetto a diverse crisi. Vediamo le tre aziende che abbiamo visto prima, per esempio, avevano avuto dei problemi grossi, alcune cose sono cambiate, altre continuano in un modo differente. Rispetto a Greenpeace, anche io sono un grandissimo fan di Greenpeace. Mi immagino io a condividere dei post di Greenpeace. Ecco, non è... sì, certo, è ovvio. A partendo... Ce n'è un'altra? Dobbiamo ancora due minuti, l'ora te ne faccio una io, perché mi interessa l'approccio delle aziende, cioè quando un'agenzia, comunque molto articolata con la vostra, propone... Qual è il problema principale che vedete nelle aziende? Di cosa hanno davvero bisogno che più o meno ci esprimono meno? Eh, di cosa hanno bisogno... risponderei di nuovo, dipende. Secondo me le aziende in questo momento hanno bisogno di capire le prime tre slide di questa presentazione, cioè che cosa significa età dell'attenzione, che cosa significa età della trasparenza, cioè in che modo rispetto a quel contesto lì loro sono posizionate e che cosa devono fare per da una parte lavorare sull'attenzione e dall'altra lavorare sulla trasparenza, perché lavorare sull'attenzione è... adesso il mercato dell'attenzione è il mercato, è la realtà dei prossimi cinquant'anni, nel senso... cioè non dire questa cosa mi sembra... cioè è proprio semplice. E tantissime aziende di questa cosa, secondo me, o almeno dall'esperienza che abbiamo avuto, non l'hanno idea assolutamente, cioè proprio assolutamente, cioè pensano a tutt'altro e non hanno idea di cosa vogliono dire i dati, di cosa vogliono dire il flusso, cioè non hanno idea. La seconda cosa è la trasparenza e i rapporti... no, e anche i processi di responsabilità sociale d'impresa. La stessa Eni, da questo punto di vista qui, è un'azienda che ogni anno cerca di trovare soluzioni sempre nuove, perché tanto comunque la grande sfida che avremo davanti è una sfida di sostenibilità e che sia da una grande azienda, che sia un'azienda piccola, sicuramente sarà necessario trovare dei margini di trasparenza. Ok, grazie mille Eugenio. Le altre domande vi chiedo di farglielo adesso appena finiamo questo intervento. Tutti in plenare c'è un ospite a sorpresa, tra poco, non ho bisogno che neanche io chi sia. Ok, ok. Eugenio rimane qua per altre domande. Una cosa al volo, è prima fila se lo metto, è giusto? Allora, abbiamo parlato di Nike, tutte grandi aziende molto strutturate, però l'Italia è fatta di piccole, piccolissime aziende, che ovviamente non hanno queste strutture complesse. Cioè, rispetto a questo, com'è di con Eugenio? Dunque, con Agifactory, diciamo che è difficile andare... cioè, la tipologia di network che si va a trovare in termini di consulting è spesso di aziende che cercano ENI, tra virgolette, quindi è difficile che si vada a lavorare direttamente. L'approccio dei brand journalist però è clamorosamente scalabile in realtà, nel senso che è ovvio che non puoi andare a creare una brand newsroom in ogni situazione, però, per esempio, la modalità del brand reporter all'interno di un'azienda è una cosa che tu puoi applicare veramente a qualsiasi tipologia di azienda, nel senso che nel momento in cui è sicuro e chiaro il piano e tu hai l'idea di dire, mando un brand reporter una volta alla settimana per un mese, da quel lavoro lì di osservazione partecipata, da quel lavoro lì di cronaca, tu ti rifare un piano editorale di sei mesi. Cioè, non so come dire, cioè, è una metodologia che è veramente semplice da utilizzare e che è abbastanza differente, diciamo, da quella che solitamente si fa. Ok, grazie mille. Ci vediamo dopo del pranzo.